Purtroppo resistete, non sforzo qua. Ma come? Piano! Come avete paura di tirare? Ho capito, ho capito. A chi ha me la paura? Ho capito. Ho capito. Questo tipo di lacca. Eh. Ti ha fatto? Ecco, prima di me. Poi ripete la capia. Tira un po'? Eh, tira. Viste che resistente? Che era solo l'acqua. Ma non a caso ho detto ingalleggiante. Ma si può tirare? non c'è un altro pezzo di corda per acchiappare questo ? dammi l'altro il capo di questo ma quel filo non serve a niente a quello che è? quella è forte però il filo eh ragione se no non ti diamo adesso e la pazzia Vediamo, è troppo leggero, un po' leggero, un po' leggero, un po' leggero, ma qui i pezzi li abbiamo messi tutti e tre, è chiaro, ora veramente, dammi un altro lungo che c'è io.